Benvenuti tutti, siamo in Milano oggi nella scuola psicoterapeutica Mara Selvini-Parazzoli per intervistare il dottor Matteo Selvini per la ricerca nel campo psicoterapia. Come è un nuovo dispositivo terapia che è creato a vita e che può favorire la sua nascita? Io credo che la base è un po' il dolore o il disagio del terapeuta stesso, cioè che il professionista che si coinvolge nei casi che sta cercando di seguire, nelle persone che sta cercando di aiutare, spesso e volentieri fa i conti col suo fallimento e con la sua impotenza. E quindi è chiaro che cerca di inventare qualcosa che lieviti quel sentimento di fallimento, quel sentimento di impotenza. E quindi nella storia della psicoterapia credo che tutti i progressi sono avvenuti su questa base, quando il professionista si trova a rivivere qualcosa che ha già vissuto e che ha portato a delle conseguenze che poi nel tempo si sono viste come negative. Quindi non lo so, se io ripenso alla storia più nostra, mi viene in mente la storia, ad esempio, di mia madre, Maria Selvini Palazzoli, che fece la psicanalista. Inizialmente mia madre mise in discussione il modello di psicanalisi. Disse, non so, la psicanalisi classica, ortodossa, pulsionale, con le anoressiche non serve a niente, non funziona. E si cercò di ispirare ad altri modelli, Sullivan piuttosto che Karen Horn, piuttosto che la fenomenologia esistenzialista. Però dopo a un certo punto si accorse che ci voleva qualcosa di più radicale e di qui ci fu poi il salto alla famiglia. Ma questa cosa, adesso questo è l'esempio storico che mi è venuto andando indietro di 50 anni nel tempo, però è una cosa che viviamo ancora tutti i giorni, ancora tutti i giorni. In questi ultimi anni ci si rende conto che magari certe terapie rischiano di diventare troppo cognitive, troppo intellettualizzanti, troppo basate sulla parola e ci si rende conto, mettiamo che a un certo punto queste tecniche così verbali non producono davvero un cambiamento. Ed ecco che rinasce questo sentimento di inutilità, di impotenza, di fallimento, da cui nascono delle invenzioni. Una cosa che ha molta attualità attualmente nel campo della terra familiare è utilizzare delle tecniche che invece facciano succedere delle cose emotivamente forti nella seduta, staccandosi un po' dal registro troppo intellettuale, troppo cognitivo. Adesso c'è un periodo di grande creatività nell'inventarsi tecniche in qualche modo esperienziali, però quella classica per dire famosa è la tecnica delle sculture, quindi far fare, far scolpire alla famiglia se stessa, come è stata nel passato, come si immagina che possa diventare nel futuro, è una tecnica che molto spesso ha dato dei risultati importanti proprio per cambiare completamente la dimensione della seduta e passare dal piano troppo intellettuale a un piano dove invece si scatenano delle emozioni e si vedono delle cose che non si potrebbero vedere in un altro modo. A volte l'immagine di come le persone si collocano fisicamente apre dei mondi e quindi credo che la risposta alla domanda sia questa. Insomma alla fine il terapeuta lavora specialmente su se stesso e soprattutto sulle sue emozioni, sia positive che negative e quando prevale il dolore di non riuscire ad aiutare i propri pazienti bisogna inventarsi qualcosa, sia per il singolo caso ma che poi magari si riesce a generalizzare anche con una tecnica che poi si usa con altri. Come classifichi i case cliniche per fare una ricerca? Il problema del nostro campo è che siamo immersi in una complessità che è abbastanza intollerabile perché la nostra testa non ce la fa starci dietro e quindi le categorie ci servono perché dobbiamo semplificare questa complessità in modo tale da renderla maneggiabile quindi tutte le scuole di psicoterapia devono implicitamente o esplicitamente inventarsi un modo per categorizzare questa realtà troppo complessa con cui abbiamo a che fare. Le categorie le dobbiamo usare perché se anche ci diciamo come tanti colleghi fanno che non vogliamo farci imbrigliare delle diagnosi, che dobbiamo salvare l'unicità del caso tutte cose vere però in realtà anche chi ragiona in questo modo usa delle categorie diagnostiche solo che lo fa in maniera implicita e questa cosa secondo noi non va bene meglio che noi abbiamo esplicitamente chiare le categorie che usiamo quindi fare finta di combattere la diagnosi e di non volere la diagnosi perché stigmatizzare per poi di fatto usarla in maniera più confusa senza rendersene conto secondo noi questa è una delle patologie gravi della psicoterapia quindi noi abbiamo cercato di fare lo sforzo contrario di dire chiaramente quali sono le diagnosi che noi usiamo. Ne abbiamo definite sette tipi di diagnosi diciamo così. La più operativa e la numero uno è quella proprio fare la diagnosi del tipo di domanda. Come abbiamo visto che tutte le domande che hanno a che fare con la psicoterapia si possono raggruppare in quattro categorie. Abbiamo chiamato domanda individuale quella che il paziente chiede un aiuto per se stesso. Domanda familiare quando è un familiare chiede aiuto per un'altra familiare. ma in questi due casi c'è un riferimento comunque a un problema personale e individuale. Il terzo caso che è un po' diverso è quella che mi ha accanto di domanda relazionale cioè quando viene fatta una domanda di aiuto ma per una relazione in crisi una coppia in crisi, una relazione padre figlia in crisi e questo è il terzo tipo di domanda. E la quarta è la domanda coatta quando cioè non c'è nessuno che domanda ma c'è un'istituzione, un tribunale, una scuola, un ente che obbliga ad andare dallo psicologo, dallo psicoterapeuta. Questa classificazione si fa nei primi 5-10 secondi del primo contatto porta a delle prassi molto diverse a seconda di chi vedrò la prima volta, come raccoglierò le informazioni, chi faccio venire. Non mi soffermo, però questo è un livello diagnostico iniziale elementare. Poi naturalmente non dispreziamo anche la diagnosi psicopatologica classica perché per esempio noi abbiamo fatto anche recentemente delle ricerche se abbiamo la fortuna, cosa che non tutti i professionisti possono fare, di vedere tanti casi della stessa categoria. Noi ad esempio per tradizione culturale vediamo tantissime anoressiche restrittive. Allora su questo ci possiamo permettere di fare delle osservazioni, di mettere lì, tenere con fatica, con sforzo una memoria, una classificazione delle ultime 30-40, effettivamente abbiamo preso le ultime 34 ragazze anoressiche restrittive che abbiamo avuto in terapia e si fa lo studio di cosa hanno in comune e cosa hanno di diverso e si cercano le cosiddette ridondanze, cioè quali fenomeni sono ripetitivi, se io studio la vita, la malattia, la famiglia di queste 34 ragazze che hanno la stessa diagnosi in comune, cosa trovo? E questo è un altro modo per usare le categorie per fare ricerca. Poi abbiamo il terzo livello della categoria diagnostica che è quello dell'attaccamento, sempre in questo criterio della semplicità e quindi dell'utilizzabilità. Ecco, nell'attaccamento ad esempio distinguere anche molto semplicemente tra il versante ambivalente e il versante evitante è molto operativo perché ad esempio noi sappiamo che il paziente evitante tende a non chiedere aiuto, quindi più facilmente verrà trascinato nella consultazione psicologica, mentre il paziente ambivalente tende a chiedere aiuto ma essere poi insoddisfatto dell'aiuto che riceve. E questo è importante come criterio di conduzione anche di un primo colloquio perché ci orienta al fatto che col paziente evitante dovremo avere una certa linea d'azione che è ispirata al criterio dell'accoglienza, soprattutto dell'accettazione, mentre invece col paziente con l'attaccamento ambivalente andremo nella direzione di essere più direttivi, più guida per cercare di dare una risposta più immediata alla sua richiesta di aiuto. Quindi linee guida molto semplici. Quel quarto livello poi che utilizziamo e che è stato piuttosto innovativo, soprattutto per il campo sistemico, non per il campo della psicoterapia in generale, è cercare di integrare anche la diagnosi di personalità. Se io faccio una certa diagnosi di personalità, ad esempio vedo, osservo, magari anche all'inizio di un colloquio mettiamo dei tatti narcisisti del mio paziente, questo già mi rimanda ad una... Io in generale so qual è stata il tipo di storia familiare di chi presenta dei tratti narcisisti e quindi questo mi aiuta a pensare più velocemente, a fare delle ipotesi più velocemente, anche su quello che è il quinto livello della diagnosi, che è quello che ha sempre caratterizzato il mondo sistemico, che è la diagnosi sistemica. Quindi questa è un'altra categorizzazione ancora. La diagnosi sistemica che cos'è? La diagnosi sistemica vuol dire ma che aria si respira in questa famiglia? Cioè questo ragazzino di 16 anni che mi portano, in che tipo di mondo sarà vissuto? Che tipo di posizione avrà avuto in questa famiglia? E questo è un altro livello della categoria. Categorizzare quindi quali sono le specificità di una posizione della famiglia, di essere il terzo genito di una fratria di tre, rispetto a quali tipi di problematiche farà i genitori, essere il primo genito di una madre il cui matrimonio è in crisi, che tipo di conseguenze normalmente ha. Vediamo che fare dialogare la diagnosi sistemica con la diagnosi individuale, con l'attaccamento, con la psicopatologia e con tutto il resto, è quello che ci sembra più interessante dal punto di vista sia della ricerca che della clinica. Gli ultimi due livelli sono quello trigenerazionale, che è un altro livello ancora. Il trigenerazionale cosa vuol dire? Che ciascuno di noi, prima di diventare genitore, è stato un bambino e che come bambino ha avuto delle esperienze, delle ferite, degli apprendimenti che inevitabilmente riporterà nel suo essere genitore. Quindi questo è un altro modo per guardare alla realtà di un paziente, di una famiglia, come avviene questo passaggio da una generazione all'altra ad esempio di un certo modo di essere genitore. Se io sono stato ad esempio un figlio che ha imparato a cavarsela parecchio da solo, è chiaro che lo stesso messaggio lo darò ai miei figli. E quindi questo può comportare anche delle conseguenze negative perché potrei ad esempio sottovalutare delle difficoltà dei miei figli e pensare che così come io me la sono cavata da solo, anche loro se la devono cavare, invece magari loro in quel momento hanno bisogno di un sostegno diverso da quello che ho avuto io per dirlo. Quindi questo è un esempio, il trigenerazionale è un terzo livello, un sesto livello di diagnosi, di categorizzazione che può essere molto importante. E poi forse il più importante di tutti è l'ultimo che abbiamo già sfiorato in questa intervista, che è quello dell'emozione del terapeuta. Cioè fondamentalmente il terapeuta classifica le persone che ha davanti sulla base di come si sente lui. E quindi questo è il punto fondamentale. E in questo senso lavorare in equip è veramente prezioso, questo forse è l'elemento più di forza del nostro approccio, perché effettivamente il terapeuta non sa mai fino a che punto le emozioni che provo, che prova con quel paziente, con quella certa famiglia, siano legate a lui stesso. Perché quelle persone che incontro mi ricordano persone della mia storia, e quindi provo delle antipatie o della simpatia legata a delle mie risonanze. Non so, incontro con quel certo signore che parla un po' in milanese, in qualche modo consapevolmente e inconsapevolmente mi ricorda un mio zio che mi era simpatico. Io provo una simpatia immediata, però magari mi accorgo che il mio collega dell'equip prova dei sentimenti totalmente diversi. Allora questo è molto interessante come tipo di... è proprio un fa di agnosi, no? E su questo livello. Invece in altri casi, invece, una persona che appare odiosa, appare odiosa a tutta l'equip, allora insomma c'è una forte probabilità che sia proprio il suo modo di funzionare. Quando si fanno delle categorie diagnostiche, il rischio è che poi vengano usate in maniera ossessiva. Quindi bisogna mantenere l'equilibrio di usare le categorie diagnostiche finché ci rendono vitali creativi. Se le categorie diagnostiche ci rendono invece semplicemente noiosi, ossessivi, non va bene. Speaking about follow up, which techniques do you suggest for a correct follow up? Sarebbe molto importante avere più riscontri sulla stessa situazione. Il criterio fondamentale è quello comunque che non si fanno abbastanza follow up. Cioè io ritengo, per quello che è la mia esperienza, che la stragrande maggioranza degli psicoterapeuti non sappia cosa è stata dei suoi pazienti cinque anni dopo, dieci anni dopo, vent'anni dopo. Se invece tutti gli psicoterapeuti sistematicamente chiedessero notizie, si informassero sull'esito a lungo termine dei loro pazienti, credo che la psicoterapia ne trarrebbe grande vantaggio. Perché ci potrebbe essere un modo più serio, più sistematico, appunto per vivere costruttivamente quel dolore del fallimento. Quindi la cosa fondamentale credo che sia trovare il modo che sistematicamente chiamiamo i nostri pazienti un anno, due anni dopo la fine della terapia e se possibile magari anche a intervalli di tempo più lunghi, avvisare magari anche i nostri pazienti che ci farà piacere avere le loro notizie anche a lunga distanza. Io credo che sia una cosa che veramente ci fa imparare molte cose. E poi, questo però è la parte più difficile, indubbiamente, però io ci provo quando ci riesco a avere notizie anche da altre fonti. Quindi non sentire che io ho solo il paziente stesso, ma poter sentire il curante che in qualche modo ho il familiare. mettere insieme e questo veramente ci dà un quadro. Perché a volte il paziente potrebbe darci una risposta un po' compiacente e quindi avere altri riscontri ci dà una certezza di avere capito bene cosa è stato di questa persona e quindi quali sono stati gli effetti a lungo termine del nostro lavoro. Forse bisognerebbe fare qualcosa di più a livello di categoria per sostenere tutto ciò, il lavoro del follow up. During the research, how can a new way of categorization be developed? Beh, io direi che questa domanda si collega abbastanza alla prima perché ci sono a volte delle categorizzazioni che ci risultano controproducenti dal punto di vista della possibilità di aiutare. Il caso diciamo più attuale in questo momento per quanto riguarda il mio lavoro è nel campo delle diagnosi di disturbi di personalità l'utilizzo della diagnosi di borderline o di masochismo. La diagnosi di borderline ha cominciato ad essere utilizzata in maniera massiccia. Per cui se alla fine ti rendi conto che quasi il 50% dei pazienti, se non di più, vengono diagnosticati come borderline ti dici che cavolo serve la diagnosi di borderline, sono tutti borderline. Infatti uno degli ultimi libri di, non a caso, uno degli ultimi libri di Cancrino è entrato l'oceano borderline. Veramente un oceano perché sono tutti pazienti borderline. E questo diciamo è un primo limite. I problemi delle diagnosi sono sempre quando la diagnosi si può fare troppo spesso. Quindi questo è uno dei motivi che porta a mettere in crisi certe categorizzazioni. Il fatto che sono utili se proprio mi individuano un fenomeno specifico. Se è qualcosa che si può applicare a tutto, alla fine non serve più a niente. L'altro criterio poi invece nel caso specifico del borderline, come del masochista, è quello che è diventata stigmatizzante. Nel senso che anche nel linguaggio corrente, più o meno, è diventato l'equivalente di un insulto o giù di lì, come dire, che uno è pazzo, inattendibile, aggressivo, insomma una brutta persona. Quindi non sembra una buona premessa che se un paziente deve riconoscere anche di avere dei limiti, non è sulla base di un'etichetta squalificante che sarà molto aiutato. E poi soprattutto poi ci si inventano, a volte anche i nomi hanno la loro importanza. Io ad esempio in questi anni sto lavorando perché al posto di etichetta borderline si utilizzi invece la diagnosi di personalità post-traumatica. Mi sembra una cosa molto costruttiva perché in qualche modo dà subito un messaggio. Mentre la diagnosi di borderline non dice niente, se no mezzo matto, che non mi sembra particolare. Sì, è anche vero che è mezzo matto ma non è di grandissimo aiuto definire uno mezzo matto. Invece dire che quelle possono essere le conseguenze di traumi prolungati nel tempo che ha vissuto mi sembra già un piccolo messaggio che ci porta a una posizione un pochino più empatica, sia il paziente stesso verso se stesso che i suoi familiari verso di lui. Molto spesso questi traumi che questi ragazzi e ragazze hanno vissuto sono stati fortemente banalizzati, misconosciuti e quindi il primo lavoro da fare è proprio di riconoscere che c'è stato un trauma nella loro vita e quando c'è questo riconoscimento è già una buona partenza da terapia. Quindi anche il nome, in questo senso la categorizzazione, può aiutare. Il problema della ricerca in psicoterapia è che secondo quello che vedo io attualmente è che esistono realmente in campo solo le metodologie qualitative, nel senso che ci sono un sacco di professionisti seri e comunque che studiano i loro casi, che pubblicano delle riflessioni sui loro casi e questo tipo di ricerca dà dei risultati, perché io leggo volentieri libri anche di autori, di altri modelli che fanno delle riflessioni su determinate casistiche, ad esempio questi anni mi sono occupato dei disturbi di personalità ho letto tante riflessioni interessanti sui disturbi di personalità. Invece la ricerca quantitativa non esiste, cioè il problema grave che c'è nel campo della psicoterapia è che esistono solo delle ricerche che siano collegate al campo farmacologico che studiano la combinazione farmaci-psicoterapia ma in una maniera altamente deformata dagli interessi delle case farmacologiche che vogliono solo dimostrare che il loro farmaco funziona e gli va bene anche dire che funziona abbinato alla terapia cognitiva ovviamente l'importante è vendere il prodotto mentre invece purtroppo non c'è nessuno che faccia delle ricerche che seriamente comparino un certo modello mettiamo psicoanalitico con un modello cognitivo, con un modello sistemico in questo momento una paziente che si ammala, che so io di anoressia restrittiva nel mondo può finire in una terapia psicoanalitica, in una terapia cognitiva, in una terapia sistemica familiare e nessuno ha la più pallida idea di cosa sia il metodo che dia effettivamente dei risultati ma non c'è neanche nessunissima ricerca io questo trovo che sia una cosa assurda cioè che non esistano delle istituzioni di ricerca che seriamente facciano questi confronti penso che sia molto grave ma a quanto pare questa è una cosa che non interessa a nessuno io l'ultima volta che ho letto una ricerca di questo tipo una ricerca fatta a Londra vent'anni fa sulla depressione che paragonava la terapia di coppia con la terapia farmacologica con la terapia individuale ed era una ricerca che aveva dato dei risultati molto molto interessanti e ha anche dimostrato noi siamo contenti anche perché dimostrava nettamente la superiore efficacia della terapia di coppia nella depressione maggiore però è l'unica di cui ho sentito parlare negli ultimi vent'anni non so neanche per quale miracolo fosse stata fatta la London Depression Trial vent'anni fa da Eia Asana e l'altra collega questo secondo me è un problema molto grosso io spero che prima o poi ci siano delle istituzioni perché poi il singolo centro io non posso fare una ricerca di questo tipo come faccio? ma a volte puoi trovare studi di seguimento nella ricerca inizia da diversi tipi di psicoterapia si però purtroppo è un po' raro io sono sempre a caccia di queste ricerche per poter utilizzarle per avere conforto rispetto a quello che facciamo e qualche volta è vero che capita di trovare nella letteratura internazionale delle cose interessanti la mia lamentazione è che succede veramente molto molto raramente l'ultima che mi viene in mente è una ricerca ma non neanche recentissima fatta in un ospedale inglese sull'anoressia restrittiva questa ricerca aveva prodotto un dato che io considero molto interessante che dimostrava che più le ragazzine anoressiche restrittive erano piccole cioè 10, 11, 12 anni più la terapia familiare aveva un'efficacia sul sintomo stesso in termini abbastanza rapidi e questo l'ho trovato una cosa molto interessante anche perché corrisponde totalmente alla nostra esperienza in questo senso c'è un buon dialogo tra ricercatore e clinico trovo che purtroppo è troppo raro la maggior parte delle ricerche che vengono fatte anche sulla psicoterapia non interessano purtroppo al clinico perché sono fatte in un modo tale che non ci danno effettivamente delle idee degli spunti importanti sembrano essere fatti per dei contesti particolari non sono fruibili da noi e questo trovo che sia il grosso limite della ricerca in psicoterapia di fare qualche cosa che veramente dia degli strumenti anche al professionista che lavora sul campo come al solito campo di ricerca e campo professionale tendono ad essere troppo staccati uno dall'altro perché adesso lo sforzo della psicoterapia è giustamente quella di fare dei protocolli cioè data un adolescente che ha un disturbo di personalità narcisistico mettiamo qual è la procedura ottimale quale combinazione di lavoro individuale qual è la durata della terapia quali sono i fattori terapeutici cosa cercherò di cambiare a livello individuale io credo che in questo senso ci siano delle potenzialità per la ricerca in psicoterapia perché sempre di più ci sono dei modelli dove queste cose vengono specificate noi adesso stiamo proprio lavorando per poter mettere a disposizione dei nostri allievi e dei colleghi in generale dei protocolli sempre più specifici non so, ad esempio sto lavorando adesso sto per pubblicare un articolo dove dico gli adolescenti che vengono portati in terapia perché sono i loro familiari che chiedono la terapia per loro per me la procedura ottimale è che il primo colloquio almeno sia un colloquio congiunto con i loro genitori poi seguirà a seconda di questa prima valutazione seguiranno varie alternative cioè bisogna indicare in qualche modo una procedura e io sostengo che questa procedura del primo incontro congiunto è molto più efficace di quella che normalmente viene usata invece di fare un primo colloquio individuale con questo adolescente magari prima molti colleghi fanno un colloquio con i soli genitori e poi vedono l'adolescente da solo sarebbe interessante che venisse fatto sistematicamente un confronto fra procedure diverse ad esempio di come fare un primo colloquio stabilendo naturalmente delle categorie diagnostiche adolescenti con disturbi di personalità tossicodipendenza, anoressia altri tipi di dipendenza e studiare dei protocolli diversi quello che vedo di positivo è che varie scuole di psicoterapia sempre di più mettono a punto dei protocolli più precisi cioè è finito il tempo che sembrava che l'unico protocollo fosse mettere il paziente sul lettino e poi quel che succedeva succedeva questa cosa che credo sia diventata abbastanza inaccettabile ormai e credo che quindi come dicevo prima il futuro della ricerca dovrebbe essere proprio di mettere a confronto per studiare davvero i pro e i conto delle diverse procedure in questo senso credo che si possa dire che la psicoterapia sta procedendo però molto divisa tra le diverse scuole dei veri confronti di ricerca tra le diverse scuole direi che per il momento non esistono Thank you very much indeed Grazie